Nicola Zaccheo, neopresidente dell'Enac, gli aeroporti della Sicilia, Palermo, Trapani, Catania e Comiso sono la terza realtà italiana. Sì, assolutamente è vero, proprio la settimana scorsa abbiamo pubblicato i dati del traffico relativo al 2018 e appunto i due scali principali siciliani, quindi anche con gli altri scali minori, costituiscono con più di 16 milioni e mezzo di passeggeri il terzo polo, dopo il polo romano, quindi Roma c'è vicino, e il polo milanese, Milano-Malpensa e Linate. E prospettive e obiettivi? I volumi che si prospettano qui in Sicilia di crescita sono veramente elevati, pensi che vi avevo dato un'occhiata ai numeri e alle previsioni di qualche tempo fa, appena qualche anno fa c'erano delle stime del traffico aereo ben al di sotto della realtà e le prospettive future sono ancora più promettenti. Si può parlare di continuità territoriale? Certo, quella deve essere sempre garantita, quindi soprattutto nelle isole e in quelle zone dove purtroppo le infrastrutture sono carenti. Purtroppo qui oggi siamo a parlare di reti aeroportuali che sono un concetto fondamentale, però senza l'intermodalità, cioè senza l'interfaccia, le relazioni delle strutture aeroportuali con le altre infrastrutture di trasporti sarà difficile far partire veramente il nostro paese in maniera moderna. Grazie.